Giuliana Di Sarno, Presidente della Terza Municipalità. Terza Municipalità è interessata in questi giorni dal problema delle voragini che si sono create in Viale Colle a Minei. Noi siamo stati sul posto, abbiamo ripreso quanto accaduto, i lavori che sono iniziati, la popolazione però è preoccupata e soprattutto si chiede che cosa succederà, quanto tempo dureranno questi lavori e se il tutto verrà ripristinato. Lei naturalmente si è fatta portavoce dei suoi concittadini e dei commercianti della zona, che notizie ci può dare? Innanzitutto notizie positive rispetto a quello che poi è successo. Per sabato mattina il direttore dei lavori ci ha confermato che la strada sarà aperta, quindi almeno cerchiamo di risolvere un minimo di disagio che è stato assolutamente recato ai cittadini e soprattutto ai commercianti. Sono contenta perché già tra oggi e domani i commercianti potranno riprendere la loro attività, quindi i tempi sono stati velocissimi, disagi tanti, però fortunatamente il tempo è stato clemente, quindi sabato dovrebbe riaprire la strada. Lei naturalmente è stata anche sul posto? Siamo quotidianamente sul posto perché ci siamo resi conto che quanto più stai appresso alle cose probabilmente riescono ad avere una velocità diversa. Io mi permetto di dire che sono situazioni che lasciano riflettere e impongono a noi politici di non intervenire soltanto quando esiste il problema, ma oggi abbiamo il dovere di renderci conto che questo non deve più succedere, cioè prevenire è meglio che curare e quindi quello che stiamo cercando di fare è di capire dove sono le responsabilità e più che colpevolizzare cercare di evitare che questo accade, che siano Napoli Servizi, che sia l'ANM, chi viene a lavorare sul territorio ha il dovere di restituire ai cittadini la strada così come viene data, con le giuste certificazioni. Se questo non avviene, come sta avvenendo? Ci è andata bene perché nella voragine non è caduto nessuno, perché è successo di sera, ma se fosse successo di mattina probabilmente oggi saremmo a piangere un altro morto e noi questo non ce lo possiamo permettere. Grazie.